Alberto Negri, editorialista del Manifesto. In questi giorni si è parlato dei palloni spia cinesi, insomma prima l'abbattimento quello sui cieli degli Stati Uniti, poi l'episodio dell'Alaska, del Canada, eppure c'è anche un rapporto, il recente rapporto dell'Office of the Direction of National Intelligence che è riferito al 2021, ma ha una serie di dati. Per esempio cita questi 366 incidenti aerei, ma di questi alcuni riguardano i droni e sono solo 26, 163 riguardano i palloni aerostatici, è come se il grande pubblico lo avesse scoperto adesso, ma forse è una realtà che c'è da tempo e soprattutto che in questo momento sta contrapponendo Stati Uniti e Cina? Beh, tecnicamente il pallone aerostatico che non è più quello degli anni 30, in realtà è diventato molto più manovrabile e anche interessante dal punto di vista delle varie potenze, non solo della Cina, ma anche gli Stati Uniti ne stanno affrontando di nuovi per spionaggio, in poche parole, per cercare di fare spionaggio. Allora, la cosa interessante, stando ai fatti, di questi quattro oggetti che sono stati abbattuti dagli americani, solo uno, cioè il pallone che è arrivato e è stato abbattuto sulla South Carolina, è stato confermato che è di provenienza cinese. Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca ieri, come riporto dei giornali americani anche oggi. Gli altri tre oggetti, ed è questo l'appetto più interessante e misterioso, gli americani non li hanno attribuiti ai cinesi e non hanno neanche capito bene di che cosa si tratti. Cioè, mentre del pallone hanno recuperato i resti, di questi tre oggetti abbattuti, che appunto ufficialmente non sono ancora stati, come dire, attribuiti alla Cina, si dice che non si è capito neppure che tipo di sistema di propellente avessero, cioè come navigassero. E addirittura, secondo i comandi militari americani, sono classificati tra gli oggetti non identificati. In più non avevano forma di pallone a sfera, ma erano cilindrici. Quindi, di quattro oggetti, uno solo è stato identificato. E stiamo nella media che dicevi tu esattamente prima. Che cosa è questa storia? Se la guardiamo dal punto di vista, come dire, classico, è la classica storia di spionaggio. Gli americani dicono, Blinken dice di non aver mai andato spionaggio nella Cina, ma è assolutamente inattendibile come dichiarazione. Diciamo che ha avuto degli effetti subito politici. Blinken ha annullato il suo viaggio a Pechino. Questo non toglie che, probabilmente, la conferenza di Monaco sulla sicurezza europea che ci sarà tra qualche giorno a Monaco, Blinken, segretario di Stato americano, non incontri Wung Yich, che è responsabile della politica estera del Partito Comunista Cinese, e praticamente è il numero due dietro Xi Jinping. Cosa interessante in questo quadro è che nel 2021, al vertice della Nato del 2021, la Nato per la prima volta si è dichiarata pronta a reagire a ogni provocazione, attacco dallo spazio, ed è stato inserito nell'articolo 5, quello che implica l'aiuto da parte degli altri paesi Nato, a chi venisse attaccato dallo spazio e nello spazio. Questo che cosa ci dice? Ci dice che siamo ancora lontani da, come dire, avere una regolamentazione internazionale. non ce l'abbiamo per l'atmosfera terrestre, ma non ce l'abbiamo per lo spazio sopra, che è diventato, non avendo confini, è diventato praticamente una zona selvaggia di confronto tra le potenze. Che ha una quinta dimensione, volendo. Io non sono abbastanza, come dire, scettico sulle ipotesi, mi attengo ai fatti. Io sono in attesa di sapere quali sono questi tre oggetti, se troveranno i resti di questi oggetti, e di capire se in questa occasione gli americani ci daranno, come dire, delle chiarificazioni su che tipo di oggetti sono. Perché su questo punto ci sono molte cose, forse troppe, che non sappiamo. Come diceva Shakespeare, ci sono più cose tra cielo e terra che non nella nostra filosofia. Grazie, grazie ancora. Grazie a lei, grazie a te e grazie a tutti voi di questa intervista.